Possiamo chiederci se esista un modello d'AMS e quali sono le ragioni del suo successo? Forse qui la risposta può apparire un po' cinica, però forse il successo del modello d'AMS sta proprio nell'indecisione tra le varie componenti che lo hanno animato su quale elemento rendere prioritario. Allora il problema di fondo è la relazione, e uso le parole di Ovidio Capitani, tra il tecnico e l'umanistico, tra il sapere tecnico e il sapere umanistico. E questa relazione è stata oggetto di dibattito infinito tra docenti e istituzioni che hanno collaborato alla nascita di questo corso di laurea e in realtà non è mai stato risolto a favore di uno o dell'altro elemento. Tant'è che infatti alcuni dei docenti e delle personalità che hanno contribuito alla nascita del DAMS sono a favore e spingono verso una maggiore presenza delle componenti tecniche e professionalizzanti, mentre sono proprio i docenti di nuova generazione e più capaci di costruirsi un percorso accademico all'interno dell'istituzione come Eco e Barilli, che invece in qualche modo anche spingono verso un modello che è quello dei saperi umanistici tradizionali, con tutta una serie di problemi che questo comporta, perché il rischio è quello, anche esso molto dibattuto, di avere, come dire, facoltà doppione, facoltà che ripetono o che si sovrappongono, eccetera. E questo è particolarmente evidente nel dibattito che si svolge sulla opportunità di trasformare il corso di laurea in una vera e propria facoltà, cosa che poi, come si sa, non si farà per una serie di ragioni che adesso non possiamo ricostruire. Però, e quindi è interessante il fatto che proprio i docenti più giovani che hanno bisogno di un'affermazione sul piano tradizionale delle humanities, quelle che chiameremmo noi humanities, sono più resti a concedere sul piano della caratterizzazione del corso come un corso tecnico e professionalizzante. Tant'è che a un certo punto Capitani, in una delle sue relazioni, in uno dei suoi interventi, dice una cosa forte, dice letteralmente squarzina, eco, maldonado, sono professori a Bologna per la loro ambizione social mondana, non perché vogliano realmente costruire un modello nuovo. Capitani dice una cosa forte, a cose già avvenute, perché la conferma di eco e ruolo è poco successiva, ma di fatto è pronta ed è avvenuta, e quindi, come dire, in realtà, forse il successo del Damsi in questa prima fase sta proprio nel non aver saputo scegliere tra spinte, contraddittorie tra loro, di averle mantenute in qualche modo un po' tutte al proprio interno. A quel punto c'è già attivato un corso di filmologia che è pensato proprio per andare verso gli aspetti più tecnici, non sono ancora proprio gli aspetti di analisi del film, ma anche di studio della tecnica cinematografica. Più avanti l'insegnamento di filmologia diventerà un insegnamento più centrato su questioni metodologiche e di analisi del film rispetto all'approccio storico relativo all'insegnamento della storia del cinema o di cinematografia documentaria. Però è significativo che appunto questo desiderio di attivare insegnamenti così diversi rimangono comunque pochi, ma pensati in modo da offrire metodologie differenziate, rispecchio una incertezza di fondo che poi si è tradotta sul piano dell'offerta formativa in una varietà di approcci e metodologie che faceva sì a propria volta che gli studenti che volevano studiare cinema all'epoca, in realtà a Bologna trovavano l'offerta maggiore. Le ragioni della fortuna di un modello d'AMS ovviamente non le possiamo stabilire a tavolino, altrimenti saremmo in grado di replicarlo e diventeremo tutti ricchi. La mia impressione, se mi permettete delle considerazioni qua davvero personali, è che come spesso accade con alcuni fenomeni peculiari degli anni 70, penso alla televisione a colori, penso alla diffusione della radiofonia in FM, ci sia una domanda di base a cui le istituzioni si affannano a rispondere arrivando regolarmente in ritardo e che quindi la fortuna del modello non stia tanto nel modello che come abbiamo visto è costruito un pezzo alla volta con strategie che vengono mutate, che non sono sempre chiarissime e che alla fine comunque prevedono un ripiegamento, vedono un ripiegamento verso una forma più tradizionale di insegnamento e di strutturazione, l'offerta didattica all'interno dell'alveo comodo, rassicurante degli studi umanistici e della facoltà di lettere e filosofia. La fortuna sta nella stessa domanda, sta alla base, il modello DAMS è un modello grassroots per certi versi in cui è grazie anche a un piano di studi o a piani di studio che tradizionalmente sono stati estremamente malleabili, permette, ha permesso agli stessi studenti di costruirsi dei percorsi rispondendo nei casi migliori ad aspirazioni, a visioni relative al loro stesso futuro. In quegli anni c'è una fame fortissima, 3500 iscritti nel giro di dieci anni, è letteralmente impressionante, letteralmente impressionante, c'è una fame fortissima di istruzione superiore basata sulle arti, la musica e lo spettacolo che nessun'altra realtà è in grado di offrire, nessun'altra realtà soprattutto è in grado di offrire all'interno di un contesto sociale e culturale come è quello bolognese degli anni 70 ovviamente, c'è anche questo dato qua che non va sottovalutato, ma mi verrebbe da pensare che più che l'architettura del corso sia la spinta propulsiva degli studenti o di coloro che in quegli anni vogliono crearsi dei profili professionali, personali, culturali, legati all'esercizio e allo studio delle arti, della musica e dello spettacolo a fare poi la fortuna del Dams per come lo conosciamo oggi.